Allora, siamo qui a Teleiato, l'intervista doveva farla Pino Maniaci, mi dispiace per te caro Rino, non sono bello come Pino, ma ti intervisto io. E vabbè, il grande baffone, magico e affascinante. Pino invece farà una cosa importante, ci aiuterà con tutta la sua importanza, la sua notorietà, nello scopo che tu ti prefiggi di raggiungere. Chiaro. E qual è? Beh, intanto lo scopo è molto importante, cioè noi dobbiamo trasferire nove ecografi in Congo, abbiamo bisogno di un aereo cargo, possibilmente della protezione civile, e abbiamo fatto una lettera indirizzata al nostro Presidente della Repubblica, aspettiamo di ricevere una risposta che speriamo presto possa arrivare. Quindi con Pino Maniaci, il nostro grande fraterno amico, con te. Perché tu speri che Pino Maniaci sia amico del Presidente della Repubblica? Vabbè, può essere. No, è un amico sincero, quanto meno questo. Premesso che è stata fatta una grande raccolta per poter acquistare queste apparecchiature da portare in Congo. Sì. Il problema adesso è come portarle, è chiaro che non si può andare in macchina, non si può andare in nave, ma c'è bisogno di un aereo. L'aereo potrebbe darlo la protezione civile su input del Presidente della Repubblica. Il nostro amico Rino ha fatto la cosa più semplice del mondo. No, ha scritto. Ho scritto al Presidente della Repubblica, motivandolo anche perché questi nove ecografi andranno a beneficio di nove ospedali differenti in tutto il Congo. Quindi un bacino di utenza di almeno un milione di persone nell'arco di un anno ne usufruiranno. Quindi dovrebbe essere anche l'orgoglio di noi italiani poter dare questa grande opportunità al popolo congolese che è molto sofferente. Quindi auguriamoci che arrivi una risposta positiva. Perché non è arrivata la risposta del Presidente della Repubblica. Penso che arriverà, speriamo. Se non dovesse arrivare... Ne scriviamo un'altra? No, io dobbiamo necessariamente farcela da soli, quindi eventualmente trovare la disponibilità di sponsor, di figure che ci possono arrivare a raccogliere dei fondi. Allora, prima è giusto aspettarsi una risposta per dire che non è possibile per un motivo, non è possibile per un altro motivo. Allora, intanto il Signor Presidente risponda a Rino Martinez, no lei ovviamente, chi per lei, non mi permetterei mai. Poi Rino, che non sta fermo mai, rompe le scatole e tra virgolette alle persone per raccogliere ancora fondi in un altro modo, facendovi divertire. Ha convocato una serie di personaggi, tra cui c'è quel tipo che si chiama Dario Tindaroveca, che è uno di Prima Radio. Grande Dario! Sì, sedicente attore, sedicente presentatore, sedicente tante cose e l'appuntamento con Dario Veca e Rino Martinez, dove? Al Cineteatro De Seta, dei Cantieri Culturali alla Zisa, domenica 16 di aprile, dalle ore 18 in poi. Vi aspettiamo in tanti, anche perché abbiamo veramente tanti, tanti, tanti ospiti, Cori Latter, Dario Veca, Giorgio Lo Scarrozzo, Silvana Marino, Giovanna Ferrara, Ilenia Zarcone, Sassata Ibi, Alfonso Gagliardo e il rompiscatole Rino Martinez. Se non potete andare, fate comunque un'offerta, il prezzo del biglietto, fate un'offerta all'associazione, allora 20 euro all'associazione Ali per volare, magari vi scusate che non siete andati allo spettacolo, però fate un'azione meritoria. Abbiamo detto tutto? Sì, detto poi da Salvo Giordano che da tanti anni ci sostiene anche con questi progetti di solidarietà e d'amore verso i popoli più sofferenti del Congo. Va bene così? Va bene così. Un abbraccio a Pino Maniaci. No, ecco, Pino Maniaci alla fine di questa intervista darà il suo appello personale sia alle persone per partecipare allo spettacolo, sia al Presidente della Repubblica, dal momento che lui è tenuto in grande considerazione. Allora, prima radio, tele Iato. No, ecco, Pino Maniaci alla fine di questa intervista,